BM Tecnologie è arrivata alla produzione della quarta generazione di data logger. Il primo data logger si chiamava LLB, poi siamo passati al Captor, poi al Mini Captor e attualmente siamo arrivati al Beyond. Siamo partiti da un prodotto che era grande come una valigia e adesso siamo a questo prodotto che è di dimensioni molto minori. Questo prodotto è stato sviluppato tenendo in massima considerazione quei sono stati suggerimenti da parte degli operatori che vanno ad installarli in campo. Perché il nome Beyond? Perché BM Tecnologie Industriali, pur essendo una piccola realtà, ha maturato la consapevolezza che è necessario proteggere il valore delle proprie attività. E in questo ambito creare un brand, proteggerlo e registrarlo, secondo noi è fondamentale. Inoltre abbiamo cercato un nome che vada fuori dagli schemi perché possa essere ricordato dagli operatori di settore. Beyond riprende e migliora quelle che erano le caratteristiche dei data logger precedenti, e cioè la flessibilità, quindi la garanzia di poter collegare tutta la sensoristica necessaria per poter eseguire i più disparati monitoraggi. L'affidabilità e la robustezza, in quanto questi data logger vengono impiegati nelle reti idriche fognali e quindi in ambienti molto gravosi. Una fra tutte, voglio dire, è l'impermeabilità. Su questa caratteristica BM ha anche registrato un brevetto perché abbiamo sviluppato un sistema che ci consente di essere sicuri che lo strumento sia stagno. Non per ultima la comunicazione. Questi strumenti ci garantiscono la massima comunicazione sia in termini di trasmissione dati, usando tutti i protocolli di recente generazione, ma soprattutto ci garantisce una comunicazione continua sul suo stato. Quindi ci dà un sacco di informazioni su qual è la sua efficienza e questo ci permette di garantire la massima efficienza nella manutenzione, i monitoraggi a lungo termine.